E ragazzi come va? Io sono FeriNiki E io sono Steph e questo è Gigi Crema The Sims 4 Andiamo subito a salutare i nostri 6 eroi del giorno Che per oggi sono Edo, Nika Channel, Elisa, Dina Lampa, Kami e Crazy003 Ciao ragazzi! Grazie mille per la condivisione Allora vorrei subito dire una cosa Ok Ci ha fatto notare Michelle che Diana e il nostro SteriNiki non risultano sposati Quindi dato che abbiamo mandato i nostri dipendenti a fare i corsi di formazione Ok Li approfittiamo per fargli prendere una giornata di pausa Organizzare un bel appuntamento per loro due e far crescere la loro relazione Uh mi piace Oggi le cose si fanno piccanti Quindi partiamo subito Io spero che mentre i nostri dipendenti migliorino Perché davvero abbiamo pagato il corso a tutti Se non migliorano vado gli spacco la faccia a tutti Li licenziamo tutti e tre Ma non eri quello che li voleva tenere che era gentile Hai ragione no? Li amo tantissimo Non li cambieremo mai Ecco al massimo li licenzio io No abbiamo fatto fare il corso Loro si stanno preparando per la nuova giornata di lavoro Quindi noi facciamo questo regalo a Diana e Serenichi Perché hanno lavorato bene Hanno gestito benissimo i dipendenti Ti ricordo questo Quindi si meritano un bel appuntamento romantico Anche perché per loro due abbiamo scelto un posto carinissimo ragazzi È bellissimo L'abbiamo scaricato dalla galleria È fantastico per un appuntamento È troppo carino Allora prima di tutto ci dobbiamo parlare un po' Perché non possiamo neanche chiederle un appuntamento al momento Quindi dobbiamo un attimino Chiacchierare Si abbiamo proprio il tipo di relazione Quasi nulla Devi andare Esatto bravo Non stava capendo come funziona per parlare davanti alle persone Magari un po' timido Ti ricordi come era il nostro Serenichi su YouTuber's Life Prima di pogarti con Diana Se è così scarso siamo messi malissimo Allora mi complimento per l'aspetto due volte Ma l'hai visto battuta di abbordaggio Poi Io non vorrei dire ma Non è elegante Esatto Ci scambiamo i numeri di telefono Ok Bellissime Poi flerta Vai vai un sacco di cose E poi E infine chiediamo l'appuntamento Perfetto Ti prego Diana Non ci rifiutare Ti prego Non ci rifiutare Allora il numero di telefono mi sa che ce l'ha dato Credo Dici? Sta sbadigliando non mi sembra È infatti È in imbarazzo È ok Mayday Houston Abbiamo un problema Dopo due cose che sono andate Ma le stiamo chiedendo l'appuntamento Questo è esattamente come su YouTuber's Life È realistico Ti ricordi? Quando provavamo a chiedere le cose a Diana O a qualche altra ragazza prima di Diana Andava tutto malissimo Non nominiamo Come Voldemort non si può nominare Non devi nominarla Non l'ho detto No non l'hai detto Pessa No È ancora nel bosco che le abbiamo spegnato Esatto Non so se sarà ancora viva Ma è lì comunque Romance Eternelle Credo sia francese L'hai messo nel quartiere delle nostre cavie Sì Non so se saranno felici di questa cosa Però speriamo che se ne accorgano È carinissimo come parco Potrebbero sfruttarlo anche Federica e Giulia In effetti sì No perché è davvero bello Vaci Che vuoi un alieno nel ristorante Che vuoi un alieno nel ristorante Guarda cosa fanno gli alieni Scusami Allora Questo è un parco romantico Ovviamente qui le copie vengono a fare le loro proposte E troviamo una nel bagno così senza pudore Esatto E se ne va via pure triste No 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 Perché se tu nello scorso episodio mi sei andata contro per questa storia dei ristoranti Degli alieni Ma allora Allora Io ti ho detto che voglio gli alieni come personale Perché così Entreranno anche degli alieni come persone E se sono tutti come quella signora che fanno la pipì in i momenti sbagliati E poi tanto ci fanno fare i soldi Ma rovinano l'atmosfera del ristorante No si chiudono in bagno e nessuno li vede Noi li vediamo perché abbiamo i muri trasparenti Non lo so Comunque Comunque Allora Prima di tutto Fai la panoramica del parco prima Dai Allora però lo metto in pausa Perché in alto a sinistra Abbiamo gli obiettivi per l'appuntamento Per fare andare bene l'appuntamento Assolutamente E c'è il tempo Cioè abbiamo un tot di tempo per farlo Vedi che si sta già muovendo Metti pausa Facciamo vedere il parco E iniziamo subito Allora Abbiamo un po' di cose bellissime Guarda che bella Anche questa Questa è per giocare Questa è per giocare Sì l'hanno messa per i bambini Capito Perché così è un po' romantico Un po' per bimbo Lascia i bambini a giocare E gli altri fanno le proposte Esatto Guardate qua Poi qua Una tavola per giocare a scacchi Lui l'ho riconosciuto Chi è? Chi è? Chi è? Eccolo qua Bjorn È sempre lui E sempre comunque Bjorn È sempre presente Vabbè guarda Club gnomida giardino È ovvio che sia qua Ci sta Assolutamente E poi questa è la cosa più bella E guardate la parte migliore Guardate che bella Cioè ditemi che non è un posto perfetto Per una proposta Quindi iniziamo subito Guarda anche qua poi Perché questo non l'abbiamo fatto vedere C'è tutto il bar Manca una persona a lavorare E poi ci sono dei regali Se vuoi tu prendi anche un regalo Te ne vai Se fai la proposta Capito Hai un regalino Esatto Dai dai Iniziamo che Guarda sono curiosissima Non vedo l'ora Che questo appuntamento Vada a buon fine Quindi iniziamo subito Io diri di farli sedere In questa panchina Ti piace? Sì va bene Va bene Sì un po' Diciamo Cioè in modo privato Sono lì dietro Non sono disturbati da nessuno E questa dorme nella panchina Non ci credo Mi deve far arrabbiare Vero? Cioè mi volete vedere arrabbiata? Ditemelo Perché questo alieno Sì mi sta facendo arrabbiare E anche questo bambino Cosa stai facendo? Vai a giocare da un'altra parte Guarda io non potevo chiedere Di meglio nella vita A bere l'alieno Che prima fa la pipì E poi si mette a dormire In una panchina Nell'appuntamento romantico Comunque ti fa rinotare Che a Steriniki e Diana Non gliene va bene una Guarda Hanno sempre Guardali Guardali Si sta guardando le mani Sono imbarazzatissimi È imbarazzato Perché sta dicendo Cioè che facciamo La svegliamo Chiamiamo la polizia Capito? Sono indecisi sul da farsi Facciamo fare un po' di cose A Steriniki Perché altrimenti fa tutto Diana Allora Obiettivo principale Socializza Con il sim accompagnatore Quindi ci basta Chiacchierare A qualcosa di romantico Facciamoli fare il bacimano Il baciamano Scusami Non è di chi me Lo so Guarda però che benini Guarda 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 Sei peggio dell'alieno Che dorme nella panchina Allora vedi Flerta con l'accompagnatore Signori tu insulti Perché sono davvero bruttissimi Vai 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 Offri una rosa Così dobbiamo far nettere di questi E infine Complimentati per l'aspetto Sta andando malissimo Non capisco perché Le azioni che facciamo Non vengono contate Come socializzare Con l'altro sim Non lo so Facciamo gli altri Ascolta Facciamoli baciare Facciamo l'obiettivo Del bacio Su 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 Allora Qua Qui E poi Non c'è Altre scelte Scusa Dai non c'è davvero un bacio Fatti avanti Fatti avanti Deve essere per forza Diciamo un bacio Se non riusciamo Guardalo 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 Guarda Stereniki Guardalo Fa finta di niente La braccia Fa finta di niente La braccia Confessa anche l'attrazione Cioè dobbiamo provarci in tutti i modi Almeno il bacio lo voglio fare Attenzione Attenzione Wuhuu Dai almeno quello è andato Si stanno dando il loro primissimo bacio Oh mio dio che carini Non ci ha contato manco il bacio Ah no Ok Ok dai Almeno questo l'abbiamo fatto Ok l'appuntamento è praticamente finito Non è andato bene per la barra Però di fatto siamo diventati fidanzati E si sono anche baciati C'è stato il primo bacio Quindi Io direi che non è andato poi così male La barra ignoriamola Perché tanto il nostro obiettivo Era quello di farli fidanzare E di farli baciare ovviamente Stiamo cercando di nascondere l'evidenza Era quello Guarda che bellini Stanno mangiando Guardiamo la relazione Vedi Adesso risulta che sono piccioncini Bellissimo Piccioncini E vabbè dai Una cosa per volta Adesso faremo salire pian piano Negli episodi La loro relazione Finché non li faremo sposare Come su youtuber slide Assolutamente E che faccia E che faccia hai fatto Non mi sei piaciuta No 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 basta Fattene Ma io ero felice Tu non sei felice per l'oro? Lo so No perché guarda Si è messa adesso a suonare il piano E c'è anche una signorina Il nostro appuntamento È solo per quello che non abbiamo fatto 10 Ci ha dato fastidio in tutti i modi possibili Ed è colpa dell'alieno È colpa dell'alieno Che è amica di testa Esattamente Vedi la smascheriamo sempre testa Sì 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 Non può fregarci In ogni caso È ora di tornare al ristorante Vediamo come sono i dipendenti Se sono davvero migliorati E speriamo di fare qualche soldino Perché è ora di guadagnare un po' Da quel ristorante Assolutamente Sono ancora flertanti Facciamo finta di nulla Sono felicissimi di come è andato l'appuntamento E lo siamo anche noi Quindi va benissimo Così apriamo il ristorante Esatto Apriamo E comunque bisogna assumere l'alieno Perché tutti hanno dato ragione a te Sono dati tutti dalla tua parte Ma ovviamente che i consolini danno ragione a me Ma ovviamente Ovviamente un corno guarda Quindi assumiamo subito l'alieno Secondo me è una scelta di marketing perfetta Io te l'ho detto Guarda È il barbone È il barbone Questa è? È quella che stava dormendo nella panchina È lei? Sì Non puoi farmi questo Volevi l'alieno? Ora ti prendi l'alieno Io dicevo che secondo me Era una buona scelta di marketing Perché gli alieni ovviamente portano Una varietà maggiore di clienti Ma scusa Infatti adesso ce l'abbiamo Contenta? Cioè tu hai assunto la persona Che ha cercato di rovinare il nostro appuntamento Esattamente Sei dispettoso Sei dispettoso E te lo diranno tutti Salve Guarda com'è felice Eccola Primi clienti Arrivano con tre stelline La famiglia di Bjorn Che ovviamente ormai sono cliente abituale del nostro ristorante Oh c'è anche la bambina Forse la bambina non l'avevamo mai vista Ah la bambina no Abbiamo visto l'altra figlia che è amica di Tina Infatti questa volta stanno facendo un pranzo di famiglia La volta scorsa Sono venuti tutti e due entrambi con l'amante E questa volta arrivano con la figlia Esatto Siete una famiglia terribile Io ve lo dico Siete davvero una famiglia terribile Comunque E vabbè Arrivano tutti Sempre gli stessi ragazzi Abbiamo sempre gli stessi E vabbè ma è anche normale Il nostro ristorante Gli è piaciuto talmente tanto Che tornano sempre È normale Comunque ti farai notare Che questa volta Le stelline dei clienti Rimangono a tre Non calano più Quindi i corsi di formazione Stanno dando i loro frutti Sì esattamente Allora quindi mettiamo Diana subito A complimentarsi con Sì Con Giulia Giusto si chiama Giulia Giulia Ricci Sì Giulia Ricci Ok quindi Perché ha fatto un buon lavoro Questa volta Allora Loda E poi mettiamo No Stereniki sta già litigando Sta litigando Ha capito che era l'aliena Che ha cercato di boicottargli L'appuntamento Guarda la sta sgridando brutalmente Stereniki Se n'è andata Se n'è già andata Se n'è andata Cos'è successo? Ma l'ha licenziata o che cosa? Non lo so Ho visto solo che si è arrabbiato tantissimo E ha iniziato a sgridarla E dove sta andando? Dove è finita? Cosa è successo? Cosa sta facendo lui? Cosa sta facendo? Vabbè ragazzi Cioè sta impazzendo tutto E poi perché Non posso più vedere Ah sta parlando con i clienti Da fuori il locale Vabbè Facciamo finta di niente Facciamo finta di nulla No ma non è capito un'altra cosa Che in questo momento Ok Ok Risulta come se Stereniki fosse stato buttato fuori Vedi che io non posso vedere dentro le mura? Ma che succede? Vedi? Altro bug Sì ma questo è peggio Come è possibile? Guarda veri che disperato Cioè Noi non possiamo Rientrare Come è possibile questa cosa? Forse ce l'ho fatta adesso Ma che sta succedendo? Ok Possiamo vedere l'altro No hanno buttato fuori noi dal ristorante Siamo noi fuori dal ristorante Sì esatto Com'è possibile questa cosa? Non lo so Io l'ho capito cos'è successo Io l'ho capito È l'aliena che tu hai assunto Che è davvero alleata di testa Ci ha fatto bugare tutto Io te l'ho detto Guardala Ha preso possesso del nostro ristorante E noi non possiamo più fare nulla Io te l'avevo detto Che non la dovevi assumere Te l'avevo detto È tutta colpa tua Uffa Cioè perché loro possono entrare Siamo proprio noi due Che siamo fuori dal ristorante È tutta colpa di testa Io non ho parole Non ho parole per questo suo comportamento Che dobbiamo fare? Cioè Non possiamo più fare nulla Ok Siamo stati totalmente buttati fuori Abbiamo provato anche a chiudere e riaprire Continua a rimanere così Questo è il bug più brutto Che io abbia mai visto Guarda cosa sto facendo Ma è proprio questo Questo è il ristorante dei bug Guarda L'avremmo dovuto chiamare il ristorante dei bug Che succede? La stai insultando? Sì Guarda Non la sopporta nessuno Anche lei secondo me ha capito Sta scappando Sa che noi non possiamo entrare lì dentro Secondo me dicevo Anche Diana ha capito Che ha cercato di boicottare l'appuntamento E non la sopporta nessuno Comunque Guarda il nostro ristorante È arrivato a tre stelle su cinque Anche senza di noi È salita a tre stelle Io direi di chiudere così Perché tanto Non possiamo fare Non ci possiamo fare nulla Abbiamo servito cinque clienti È una tappe male Perché le altre volte Abbiamo servito molto più gente Ma d'altronde Non c'eravamo Abbiamo guadagnato 44 Secondo me Loro sono saliti di livello Perché non c'è altra spiegazione Vedi? Vedi? Lui era a livello 2 Secondo me Lei è a livello 1 Perché è scarsissimo E si vede E lei è arrivata a livello 4-4 E infatti Non fa più scendere niente Nessuno Complimenti Giulia Ricci Sei bravissima Complimenti perché hanno seguito Davvero bene I loro corsi di formazione L'hanno presa seriamente Come cosa Sono molto felice di questo Esattamente E prima di chiudere il video Andiamo ovviamente A salutare gli altri nostri Sei eroi del giorno Che per oggi sono Sam Kawai Mister Luca Dark Power Pier Cesare Siria E Mayru Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione Beh ragazzi Vi faccio così Se vi faccio un bel like E se è la prima volta Che vedete un nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie per la visione!